Il protocollo a un server sicuro Il protocollo a un server sicuro Il protocollo a un server sicuro oh oh No, non a terra! Oh, cavolo, fa male! E abbiamo il tuo collegamento! Bel lavoro, Hulk! Cinque gamma alto! Andiamocene da qui! Wow, il direttore Fiori! Abbiamo trovato più di quanto ci aspettassimo, eh Jarvis? Sarà meglio riportare tutto alla chimera! Sto calcolando il percorso. Ora che il collegamento neurale è installato, posso accedere al mio database completo. Il comandante Hill sta revisionando i protocolli SHIELD che avete recuperato. Ti senti meglio, Jarvis? Sembra che tutto funzioni correttamente. Non avete idea di quanto significa per me, per lo SHIELD. Grazie, Bruce. E anche a te, Kamala. Con questo potrò iniziare a ricostruire lo SHIELD. Se doveste avere bisogno di qualcosa, chiamatemi. Sono certa che ci rivedremo presto. Non vedo l'ora, direttrice. Forse dovrei fare il saluto militare. No, non serve. Buona fortuna a entrambi! Jarvis? Credi di poterci guidare da Tony? Ci vorrà un po', ma dovrei riuscire a trovare il signor Stark. Nel frattempo ho scoperto qualcosa nella sala ARM che potrebbe interessare alla signorina Khan. La sala cosa? L'aolografico Augmented Reality Machine. Gli Avengers la usano per addestrarsi. Oh, sembra fantastica. Tuttavia, devo avvertirvi che il sistema potrebbe essere un po'... irregolare. È sicuro? C'è solo lo 0,0001% di possibilità di incidenti. Ah, ok. Ti fido di te, credo. Vada verso gli alloggi dell'equipaggio. La sala ARM è al piano sotto l'hangar. Grazie, Jarvis. ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, Phil Sheldon, in diretta dal campus di ricerca Olimpia nel nord ovest pacifico. Quello che avete visto è solo un video sfocato ripreso con un vecchio canale. È difficile credere che sia tutto reale. Voglio dire, sono volata con un queen jet fino a una base segreta dello shield. Abbiamo visto Nick Fury e ora sto parlando con Jarvis e mi sto agitando. Scusa. Non deve scusarsi, signorina Khan. Non deve scusarsi, signorina Khan. Ah, pronta. Lo attivo. Wow! Ma cosa... Benvenuta nell'Holographic Augmented Reality Machine. Ah, io sono Iron Man! Infatti, ho caricato un vecchio simulatore di combattimento del signor Stark. Spero non le dispiace. Stai scherzando? Io sono Iron Man! Fatevi sotto, cattivoni virtuali! Spero non le dispiace. eri site. Puoi essere Liberty Machine. Spero non le dispiace. Spero non le dispiace. Destinare un vecchio game. E' stato splendido. Può bastare, credo. Può bastare, credo. Può bastare, credo. Cuò bastare. Può bastare. E' stato splendido. 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 Ho segnato. E' stato splendido. 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 E' stato丈. E' stato splendido. E' stato dolentino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che c'è, Jarvis? Come da sua richiesta, ho cercato radiazioni gamma residue. Ho rilevato forti emanazioni provenienti da un complesso nel cuore del territorio AIM. AIM e radiazioni gamma? Ma come... Monica sta cercando di riprodurre la mia ricerca. Le ho dato tutto quello che le occorre. Mi dispiace, Bruce. Mi fidavo di lei. Immagino che vorrete infiltrarvi nella struttura. E assicurarci che venga fermata. Sì. Dove siamo diretti? Ho caricato le coordinate sul Queenjet. Da quando Monica ha cofondato l'AIM, il dottor Banner ha sempre temuto le ricerche sulle radiazioni gamma che lei aveva compiuto mentre erano ancora colleghi. Recentemente, ho rilevato delle radiazioni gamma residue provenienti da un centro AIM remoto. Il dottor Banner vorrebbe che lei si infiltrasse nel laboratorio e distruggesse tutte le ricerche. Il dottor Banner ha registrato un messaggio per lei, Hulk. Ehi, bestione. Se Monica è lì, fai il puto bene. Dai ascolto a Jarvis e Kamala se ti dicono di contenerti. E... Grazie. Stai fermando quello che io non ho potuto. Le radiazioni gamma provengono da una struttura sotterranea non lontana dalla vostra attuale posizione. È proprio al centro del territorio dell'AIM. Sì. Vi attende una resistenza significativa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.